Io e te ci siamo incontrati nel mese di maggio in un posto che era un po' meno allegro di quello dove siamo in questo momento. Siamo andati a Galeotti insieme a San Vittore. Nel maggio del 1944. Questa volta attualità e servizi giornalistici. Per consegnare il premio un illustre personaggio. Veramente siamo onorati di avere anche lui tra noi questa sera. Niente meno che come padrino avremo Indro Montanelli, signori. Indro Montanelli. Cosa faccio? Vedi che i grandi applausi non sono solo per gli artisti ma anche per i giornalisti. Sono mestieri affini. Mestieri affini, certo. Siamo nel mese di maggio. Io e te ci siamo incontrati nel mese di maggio in un posto che era un po' meno allegro di quello dove siamo in questo momento. Siamo andati a Galeotti insieme a San Vittore. Dillo, dillo. Nel maggio del 1944. Sì. Ecco. Sì. 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 Ci siamo incontrati nelle rispettive celle. Sono passati tanti anni da allora e oggi siamo qua più allegri, direi, senz'altro, no? Beh, sì. Oddio, non lo so perché abbiamo 40 anni in più. Sì, purtroppo. Ecco. Però è stato un periodo, insomma, che ci è stato molto molto. Un po' duretto, un po' duretto, un po'. Abbiamo imparato tante cose del resto. Lo leggerò con odio. Perché con odio? Vabbè, perché vince lui, no? Ah, per attualità e servizi giornalistici vince il caso. Quindi abbiamo con noi Enzo Piaggi. Enzo Piaggi. Un incontro storico, signori, due grandi giornalisti.